Certificazione di italiano come lingua straniera Livello A1 Ascolto Prova numero 1 Apri il quaderno alla pagina della prova di ascolto numero 1 Ascolta il testo Dopo l'ascolto ti dettiamo il testo Ciocco sì A marzo, in molte città italiane, c'è la festa della cioccolata È un mercato dove puoi mangiare tante cose buone E partecipare ai laboratori dove gli artigiani insegnano a fare i dolci con il cacao Il sabato e la domenica puoi anche vedere spettacoli con attori che interpretano storie Oppure puoi ascoltare gruppi musicali che cantano canzoni Se vuoi avere altre informazioni su questa festa Vai sul sito www.cioccosì.it Ascolta e scrivi le parole che mancano nel testo A marzo, in molte città italiane, c'è la festa della cioccolata È un mercato Dove puoi mangiare tante cose buone E partecipare ai laboratori Dove gli artigiani insegnano a fare i dolci con il cacao Il sabato e la domenica puoi anche vedere spettacoli con attori che interpretano storie Oppure puoi ascoltare gruppi musicali che cantano canzoni Se vuoi avere altre informazioni Su questa festa Vai sul sito www.cioccosì.it Leggi e controlla quello che hai scritto Hai due minuti di tempo Grazie 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 Ascolta di nuovo il testo e controlla quello che hai scritto Cioccosì A marzo, in molte città italiane, c'è la festa della cioccolata È un mercato È un mercato dove puoi mangiare tante cose buone E partecipare ai laboratori dove gli artigiani insegnano a fare i dolci con il cacao Il sabato e la domenica puoi anche vedere spettacoli con attori che interpretano storie Oppure puoi ascoltare gruppi musicali che cantano canzoni Se vuoi avere altre informazioni su questa festa Vai sul sito www.cioccosì.it Ascolto Prova numero 2 Apri il quaderno alla pagina della prova di ascolto numero 2 Ascolta il testo Scusa Luisa, mi puoi prestare una penna blu? Sì, certo Francesco Ecco la penna La puoi tenere tutta la mattina Io scrivo con la penna nera Grazie Ho preparato lo zaino in fretta prima di venire a scuola E ho dimenticato a casa l'astuccio con penne e matite Hai bisogno di qualche altra cosa? No, grazie Per fortuna oggi non abbiamo la lezione di disegno Ma tu sai perché l'insegnante di disegno non è venuta a scuola? Sì, ha accompagnato in gita scolastica una classe Mi sembra la seconda B Ma noi quando andiamo in gita? Tra due settimane Adesso hai un minuto di tempo per leggere la prova Grazie 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 Ascolta di nuovo il testo ed esegui la prova Dopo l'ascolto hai due minuti di tempo per controllare le tue risposte scusa luisa mi puoi prestare una penna blu sì certo francesco ecco la penna la puoi tenere tutta la mattina io scrivo con la penna nera grazie ho preparato lo zaino in fretta prima di venire a scuola e ho dimenticato a casa l'astuccio con penne e matite hai bisogno di qualche altra cosa no grazie per fortuna oggi non abbiamo la lezione di disegno ma tu sai perché l'insegnante di disegno non è venuta a scuola si ha accompagnato in gita scolastica una classe mi sembra la seconda b ma noi quando andiamo in gita tra due settimane grazie a tutti 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 ascolto prova numero 3 apri il quaderno alla pagina della prova di ascolto numero 3 ascolta il testo ciao sono elisabetta ho 14 anni e suono il violino da tre anni adesso studio al conservatorio santa cecilia di roma e suono anche nella junior orchestra del conservatorio io sono roberto ho 16 anni e gioco a rugby mi diverto molto con i compagni della mia squadra la prossima settimana giochiamo la prima partita del campionato juniors speriamo di vincere ciao sono antonella vivo a milano e frequento il liceo artistico mi piace tanto disegnare e mi piace tanto anche la moda guardo sempre le sfilate di moda da grande voglio diventare una stilista mi chiamo giovanni e mi piacciono i computer a scuola non sono tanto bravo perché invece di studiare gioco con il computer e con la playstation il prossimo fine settimana partecipo ad una gara di giochi elettronici adesso hai un minuto di tempo per leggere la prova grazie a tutti ascolta di nuovo il testo ed esegui la prova dopo l'ascolto hai due minuti di tempo per controllare le tue risposte ciao sono elisabetta ho 14 anni e suono il violino da tre anni adesso studio al conservatorio santa cecilia di roma e suono anche nella junior orchestra del conservatorio io sono roberto ho 16 anni e gioco a rugby mi diverto molto con i compagni della mia squadra la prossima settimana giochiamo la prima partita del campionato juniors speriamo di vincere ciao sono antonella vivo a milano e frequento il liceo artistico mi piace tanto disegnare e mi piace tanto anche la moda guardo sono sempre le sfilate di moda da grande voglio diventare una stilista mi chiamo giovanni e mi piacciono i computer a scuola non sono tanto bravo perché invece di studiare gioco con il computer e con la playstation il prossimo fine settimana partecipo ad una gara di giochi elettronici grazie 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 adesso scrivi le risposte delle prove nel foglio delle risposte ai 5 minuti di tempo grazie Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.